Sono Andrea Formenton, quest'anno è il primo anno col trofeo Super Cup, corro con il Team 05 con una BMW, ex Zanardi. Per me è la prima esperienza a bordo di un'auto così competitiva, su un tracciato che è uno dei più complessi, secondo me, che abbiamo in Italia. Ora no, trovo che Giordano abbia fatto un ottimo lavoro, è riuscito a radunare delle belle macchine interessanti, e soprattutto auto che non hanno più la possibilità di correre nei campionati top, e quindi sicuramente non agevola il fatto che ci siano varie categorie, perché in qualifica soprattutto si fa fatica a trovare un giro buono, però alla fine è divertente, si sorpassa tanto, e quindi è un bel weekend divertente. Le aspettative per la stagione sono di portare la macchina a casa, sicuramente, e divertirsi senza... non ho l'ambizione di arrivare primo, se capita bene, ma sono qua per divertirmi in primis. Imola è un circuito molto complicato, ci ho girato una volta sola, e tra l'altro neanche tanto bene, però la macchina questo weekend era molto performante, quindi mi ha aiutato tanto, e insomma, più chilometri uno ci fa, e più prende le misure col tracciato, ecco.